Il libro è stato presentato a martedì 25 gennaio nella sede di Altis dell'Università Cattolica di Milano, alla presenza degli autori e di Monsignor Cesare Mazzolari, Vescovo di Rumbek, che del Sudan del Sud ha fatto la sua patria e dal quale arriva una preziosa testimonianza. Abbiamo avuto 22 anni di guerra che è cessata nel 2005 con un Comprehensive Peace Agreement, un patto di alleanza e di pace in cui erano stati messi insieme i sei protocolli di condivisione della sicurezza, del territorio, delle risorse e tutto quanto. Dopo cinque anni il popolo era dissoddisfatto di questa situazione che non portava veramente il progresso e quindi secondo il patto della Comprehensive Peace Agreement dopo cinque anni c'è stata l'elezione e adesso il referendum che doveva avvenire proprio in questi ultimi sei mesi, sarà completato il 9 luglio del 2011. L'elezione ha dimostrato il 22 di aprile dell'anno scorso che la gente desiderava assolutamente l'autodeterminazione. L'elezione era per la popolazione del nord e del sud. L'elezione del referendum è stata fatta solo per i sud sudanesi che dovevano provare nella loro dinastia di famiglia, di sangue, che erano oriundi dal popolo nilotico del sud Sudan. Allora, 4 milioni sono andati alle urne e pochissimi sono mancati, soprattutto quelli che all'ultimo momento hanno deciso di lasciare il nord. In questo referendum che doveva decidere se il paese restava unito o diviso, dopo un'elezione che ha mostrato il 93% dell'autodeterminazione, il referendum ha mostrato la preferenza per la secessione, quindi la separazione, a livello del, in alcuni posti, 99%. È quasi completato la somma di tutti i voti, sono arrivati al 98%, ma è già chiarissimo che la gente ha scelto definitivamente, unanimemente, la secessione. Quindi hanno votato i 10 stati del sud, gli 8 stati del nord e 8 nazioni nel mondo in cui vivono i sud sudanesi al momento. Hanno votato in absenza nelle loro ambasciate. Per noi è stata una festa di giubilo, la preparazione con cui la Chiesa e gli organismi internazionali hanno preparato per questo referendum. La gente sospirava a questo momento. Quindi la prima giornata del referendum, alle 4 del mattino, le urne erano già zeppe di gente che cantava in anticipazione di poter dire cosa volevano. uscendo dopo aver votato, che si fa imprimendo l'impronta digitale su una semplice scheda che dice sì o no, e uscivano danzando, cantando. Era una cosa veramente commovente. E in una settimana tutti i 4 milioni hanno dato il loro voto nelle diverse sedi del nord e del sud. A questo momento, per noi, che anticipavamo conflitti, anticipavamo qualche truffo, qualche intruso da parte di Khartoum, abbiamo invece avuto un referendum tranquillo, pacifico, sereno e di grande giubilo. Saremo ancora più poveri dopo il referendum perché un po' della condivisione che avveniva secondo il patto di pace crolla. Non abbiamo tutti i dirigenti per tutti i rami dello sviluppo che dovremmo fare, creare strade, fare pozzi, avere dottori, ingegneri, buoni amministratori. Ci vorranno dai 5 ai 10 anni di capacity building, di formazione e qui abbiamo bisogno dell'intervento all'inizio della comunità internazionale che ci aiuti con workshops, con seminars, con capacity building a creare l'essenziale per avere amministratori, un po' di diplomatici e politici che creano una relazione di fiducia con la comunità internazionale. Quindi si costituirà un vero Stato al Sud con il suo Parlamento, con tutti i suoi legislatori, con i suoi 10 Stati e con la rappresentanza di tutti gli Stati. dei 10 Stati del Sud Sudan avranno le loro ambasciate nel mondo. Difatti la Chiesa è disposta a dare un auspizio, un domicilio diplomatico temporaneo qui in Italia per aiutare il governo del Sud a fare i suoi primi passi a livello internazionale. La visione del Sud per le frontiere sarebbe che fosse elastica, cioè che dal Sud possono andare a portare il commercio di là dalla frontiera, che i pastori che sono al nord possono venire a pascolare le loro mucche al Sud, però quella non è l'intenzione di Cartoon. Allo stesso modo il petrolio adesso è tutto al Sud e io penso che Salva Kir, che è il presidente del Sud e la sua gente ha già cercato di trattare con il nord e vedere se permettono pagando di usare gli oliodotti che vanno alla raffineria di Khartoum e poi al porto di Port Sudan per lo smercio di questo grezzo e raffinato. Khartoum non ha espresso piacere per questo, perché considera l'olio del Sud, ovunque sia, l'olio del Sudan, il petrolio del Sudan. Nell'ultima lettera hanno detto se viene la secessione sarà un fattore geografico che divide la terra del nord dalla terra del sud, ma non la popolazione del nord e del sud. Quindi hanno detto nella loro lettera ci saranno moschee al nord, ci saranno moschee al sud, ci saranno chiese cattoliche e cristiane al nord e ci saranno chiese cristiane al sud. E questo è il nostro pensiero. E quello è stato il pensiero più confortante per i nostri cristiani. La Costituzione di prima diceva che c'era pluralità di identità, di religione, rispetto all'etnicità di un gruppo o dell'altro. era tutto falso. Salva Kier è cattolico, Salva Kier è praticante, Salva Kier digiunava durante il periodo in preparazione al referendum. Io l'ho visto il 29 di dicembre. È una persona che è decisamente contrario alla corrosione, decisamente contrario alla mancanza di unità nel suo popolo. Ha già chiamato membri dei rami legali della Costituzione e anche per scegliere il nome per questo nuovo Stato. Sperando che scelga e possa avere un consiglio vicino a lui che segue i suoi ideali, dovremmo avere un governo democratico. C'è qualcosa nello spirito del sudanese che noi non abbiamo forse. È la capacità di resistere, di perseverare, di non cedere, la capacità di avere qualcosa che vogliono e che otterranno a qualsiasi costo e a qualsiasi sacrificio. Grazie.